Miei Padawan bentornati sul canale YouTube Unbounce, io sono Emilio Valotti qui per parlare oggi del nuovo trailer, non più del gameplay come fu il precedente, come fu il primo, ma finalmente della storia del nuovo videogame Star Wars Outlaws. Non so se si pronunci così, ma io con le pronunce veramente ho dei problemi, quindi mi scuso e lo chiamerò Star Wars fuori leggi. Un gioco che sto aspettando con grande curiosità nonostante qualche titubanza, che ancora oggi, diciamo, è venuta a galla. Ma parleremo soprattutto di ciò che mi è piaciuto, soprattutto dei richiami alla lore, alcuni molto interessanti, altri che potrebbero sollevare qualche perplessità, soprattutto perché questo gioco è ambientato tra episodio 5 e 6, quindi in un anno, perché episodio 5, l'impero colpisce ancora, finisce nel 3 ABY e l'ultimo, episodio 6, si conclude nel 4 ABY, quindi abbiamo circa un anno effettivamente in cui incastrare gli eventi, ma questi eventi del videogioco si sommano ad altri dei fumetti, ad altri dei romanzi. C'è molta carne al fuoco, quindi riusciremo a incastrare sicuramente il videogioco che parla di fuori legge, che parla dei sindacati, dei cartelli criminali, quindi si adatta bene anche alla storia fumetti di Kira, che argomenteremo adesso, tuttavia forse è troppo tanto per il canon e quindi ci sono alcune perplessità che poi vi dirò. Tuttavia prima di cominciare lascia un bel mi piace, commenta qui sotto per darmi un feedback e come sempre lanciamo la sigla. Tempo fa era già uscito un trailer gameplay di questo gioco in cui ci avevano mostrato un po' le dinamiche, la protagonista che è Ives e ciò che si può fare. Tuttavia io quando si parla di Ubisoft sono sempre un po' prevenuto, quindi quel trailer mi ha entusiasmato, sì, ma fino a un certo punto, aspetto sempre il prodotto finito. Però sono contento che qui la grafica del trailer cinematografico, per così chiamarlo, del trailer dedicato non solo all'esperienza di videogiocatore ma alla storia che ci mostra il contesto, beh questo trailer, per la prima volta forse da casa Ubisoft, non è pompato come al solito. Cioè si vedeva che effettivamente la grafica non eccelleva in alcuni frangenti, quindi vuol dire che sarà più o meno il prodotto finito. Il che mi rende felice in qualche modo, mi rassicura, perché Ubisoft spesso, molto spesso ci mostra dei trailer con una grafica eccezionale, magnifica e poi quando il gioco arriva su console o su PC non è mai all'altezza. Ciò che mi lascia un po' in dubbio sono due fattori. Il primo per console, il gioco per PC ma capisco i giocatori per console che magari non hanno una connessione a internet o non vogliono averla per l'appunto per giocare, ma da quanto è stato detto la prima volta sarà necessario connettersi a internet. Ciò credo alla fine per scaricare dei file aggiuntivi di gioco. Quindi è una cosa che ormai è abitudine, qualcuno potrebbe storcere il naso, credo che sia raro, persone senza la connessione internet sulla console, però nel caso ci sia è un elemento comunque giusto da riportare. Il secondo che è un po' più traumatico per me è che non avremo il doppiaggio italiano. E ciò per me è un po' traumatico per un semplice fatto. Io quando gioco, tengo solitamente, avete visto nei gameplay anche su Twitch e altri giochi, tengo se posso la lingua italiana con i sub perché sono talmente concitato che devo poter leggere la lingua italiana e ascoltare anche l'audio. In quel caso mi perdo il meno possibile, però poi quando monto i video mi ritrovo comunque a dire ah ok ero troppo concitato dall'azione questa cosa me l'ero persa, non l'ho sentita, non l'ho letta. E qui il doppiaggio italiano non ci sarà, ma la lingua inglese. Il che da una parte per alcuni è un pregio, io sono comunque curioso di seguirlo in lingua italiana, ma dipende quanto sarà concitata l'azione. Perché mi ricordo ad esempio a Red Dead Redemption in cui andavi in giro col carretto, eri a cavallo, avevi delle missioni in cui sparavi, io la trama non riuscivo a seguirla. Anche perché, ripeto, io ho un po' di difficoltà con le lingue, ho difficoltà con l'ascolto proprio, quindi non riesco a riprodurre alcuni suoni. Ecco perché anche il titolo di questo gioco mi risulta difficile da pronunciare, lo chiamo fuori legge. Tuttavia, unito al fatto che io sento molto poco, capisco molto poco le lingue straniere, l'inglese in particolare in questo caso, unito al fatto che spareremo, ci saranno blasters, esplosioni, suoni, io rischio di non capire quasi niente. Se le scritte sono piccole e appaiono su sfondi molto colorati, sono per di più daltonico, quindi per me potrebbe essere un po' un casino. Avrei voluto lo doppiassero almeno. Invece non è così, quindi speriamo comunque che sappiano mettere delle impostazioni per dei sub belli grandi e il filtro daltonismo. Problemi a parte che sono soltanto miei, spero non vostri, ma che comunque magari qualcun altro si ritrova nella mia situazione, quindi io ugualmente li riporto. Ma finalmente, dopo tanti anni, siamo in un periodo storico che i videogame non portano. Infatti io non credo che in questo periodo tra episodio 5 e episodio 6 ci sia nessun videogame se non a inizio anni 2000, una trentina di anni fa circa. Quindi effettivamente è interessante trattare questa era dell'impero, l'era finale, prima del crollo. Tuttavia, come dicevo nell'incipit del video, canonicamente ci sono molti eventi in questo periodo. Quindi è interessante che i videogame finalmente lo trattino, è interessante che prendino spunto da romanzi, fumetti, film, solo Star Wars Story, anche come abbiamo visto in alcuni spezzoni che adesso argomenteremo, in alcuni easter eggs. Tuttavia potrebbe essere un po' caotico, soprattutto perché è un open world e soprattutto perché è canonico incastrare i pezzi in un solo anno, che poi io credo che sia monto meno, perché abbiamo visto in questo trailer più elementi che ci avvicinano al ritorno dello Jedi piuttosto che all'impero colpisce ancora. Quindi credo che saremo nella seconda fase effettivamente del 3 EBY, più vicino al 4 EBY, più vicino al sesto film, quindi facciamo che sono gli ultimi mesi effettivamente, perché si parla di una ribellione sempre più attiva. E in episodio 5 la ribellione ne esce un po' a pezzi. La battaglia di Hoth è una batosta, loro fuggono, riescono a malapena scappare, poi si riuniscono, c'è il rendezvous nel finale e poi in episodio 6 finalmente la nuova alleanza ribelle è pronta a colpire, però si sta costruendo. È nei mesi tra episodio 4, scusate, tra episodio 5 e episodio 6 che comincia a formarsi e comincia a diventare quella che poi vedremo nell'epilogo della trilogia originale. Quindi qui io credo che siamo concitati negli ultimi mesi e mettere anche questo, questo pezzo, potrebbe essere problematico, perché ad esempio c'è Kira, che come sappiamo in questo momento, Kira personaggio di Star Wars Solo, lo spin-off di Han Solo, in questo momento però Kira che cosa ha fatto? Ha lanciato una guerra ai sindacati, quindi lei è diventata la leader al posto di Maul, abbiamo visto sempre questo in solo Star Wars Story, ma è diventata in questo momento la leader dell'Alba Kremisi e si unisce alla sua storyline anche quella dei Cavalieri di Ren, è tutta una cosa fumetti canonica che è uscita. Per me è interessante questa trama, però l'impero che va a costruire Kira contro l'impero ufficiale è qualcosa di enorme, cioè io leggendo quei fumetti mi sono detto ok ma è più forte Kira e tutte le personalità che ha riunito rispetto alla nuova alleanza ribelle, quindi bastavano loro sconfiggere l'impero, cioè già abbiamo costruito un castello che secondo me era troppo rispetto agli eventi principali, qui ho paura che inserirne altre forze potrebbe essere una problematica, però rimango aperto, spero di essere sorpreso. Siccome quasi certamente il personaggio che vediamo è Kira e subito dopo viene mostrata la carbonite, la graffite in cui c'è dentro un solo dopo il finale dell'impero colpisce ancora, molto facilmente vedremo anche l'amato o odiato poi nel suo spin-off live action, Cacciatore d'Italia Boba Fette. E qui andiamo ad unirci a un altro fumetto, la battaglia, la guerra dei Cacciatori d'Italia, in cui tutti quanti cercano di rubarsi Han Solo prima che arrivi al Palazzo di Jabba, è una sottotrama fumetti sempre canonica che parte da quando Han Solo viene catturato da Darth Vader da Boba Fette e poi rubato perché tutti vogliono la sua taglia, soltanto alla fine dopo questa guerra dei Cacciatori d'Italia arriva al Palazzo di Jabba e quindi sarà salvato poi in episodio 6 Il Ritorno dello Jedi. C'è inoltre questo personaggio interessante che quanto capito si chiama Slero che ha riunito tutti e poi dirà che Kay, che è la nostra protagonista, è finita in qualcosa di molto più grande e ha riunito più o meno tutti i sindacati. Il Sole Nero che già ha citato negli anni 90 in Story Legends, poi l'abbiamo visto molto più attivo in The Clone Wars dal 2012 in poi, soprattutto durante l'arco narrativo di Maul. Lì lo cominciavano a creare, poi l'abbiamo visto nei romanzi, ad esempio l'apprendista del lato oscuro su Mustafar con Queen Lavos e Ventress che andavano lì e avevano una sorta di conflitto tra Pai che Sole Nero. Qui vengono radunati tutti, riuniti la maggior parte dei cartelli criminali e c'è secondo me un interessante aneddoto su come stia andando la storia criminale nella galassia. Ovvero noi l'abbiamo seguita durante le Guerre dei Cloni che secondo me era bellissimo analizzare anche quell'aspetto, analizzare come durante la guerra si è aumentato il mercato nero ma anche alla fine i cartelli abbiano fatto soldi, si siano ingranditi con gli hat che hanno effettivamente il loro spazio che è enorme, la loro influenza che è quasi ovunque. E qui ci viene detto che di nuovo un'altra guerra, non più quella dei cloni ma quella civile, sta permettendo a questi cartelli di arricchirsi perché la ribellione è sempre più un problema. L'impero ormai non può più gestire i cartelli, gestire i criminali, è concentrata sui ribelli quindi loro ci sguazzano qui dentro. Il commercio, il mercato nero, il contrabbando, i furti, tutto ciò giova loro e li arricchisce. In questi avventuri che si stanno arricchendo ci sono anche i crimorà che sono un sindacato che non abbiamo mai visto, credo, non ne sono sicuro, però mi pare che non abbiamo mai visto né in live action né in serie animate, forse in fumetti ma al dubbio anche lì, tuttavia vengono citati nel romanzo Tarkin di James Luceno del 2015. Quindi lì vengono citati, erano canonici ma ricordiamo sempre che quel romanzo è sempre lì sul filo come altri romanzi di quel periodo ed effettivamente riportarli qui, mostrarli, secondo me è molto interessante. Anche perché è un'organizzazione che aiuta, che sostiene bande di pirati usando droidi da battaglie e separatisti riprogrammati ai loro scopi. Quindi questo ci lega di nuovo alle guerre dei cloni, crea di nuovo una continuità in Star Wars che secondo me quando viene fatta bene struttura un mondo molto forte in cui effettivamente sì abbiamo disattivato i droidi, abbiamo distrutto i rimanenti ma qualcuno è stato rubato e soprattutto qualcuno è stato acquistato forse dai cartelli criminali e riutilizzato a loro favore. Quindi di nuovo le guerre che influiscono in modo positivo su questi fuori legge, su questi cartelli. Ciò che però mi ha colpito è la presenza di Duncan, questa sorta di broker Mon Calamari, la specie dell'ammiraglio Akbar e mi ha colpito perché da quanto ho capito, non ne sono sicurissimo però mi pare di aver capito così e spero venga confermato nella storia perché sarebbe un risvolto molto interessante, lui è una sorta di intermediario tra i sindacati e l'impero. In qualche modo passa le informazioni entrambi, è un portavoce, il broker lui ci guadagna dalle soffiate, chiede i contributi, quindi potrebbe essere interessante avere qualche alleanza, qualche sottobosco. Parliamo di criminali, parliamo di criminali che effettivamente lo vediamo anche in The Bad Batch allungano le mani ovunque e nell'impero soprattutto di recente in un episodio di The Bad Batch abbiamo visto un impero, un regime che sono tutti perfettamente fisicati in cui devono rappresentare un certo standard fisico e morale e poi vedi quello più corrotto di tutti che è Grassottello perché alla fine ruba, magna, però che cosa fa? Va a giocare d'azzardo con Omega e quando perde le fa pagare la multa lei per il gioco d'azzardo, quindi qui torniamo a degli elementi secondo me molto interessanti del fatto che l'impero abbia comunque le mani piene di fango, le mani sporche perché collabora con questa azienda e quindi ha ad esempio questo personaggio Mon Calamari che grazie ai fuorilegge, grazie ai cartelli riesce a collaborare con l'impero e a guadagnare sia da uno che dall'altro, quindi è il contatto di ambo le fazioni. Questo livello di trama potrebbe essere una svolta decisamente interessante e secondo me tanti elementi simili potrebbero permetterci a noi giocatori, a noi fan hardcore di esplorare queste tematiche che di solito fanno fatica ad emergere o addirittura non emergono. Per la prima volta invece potremmo avere un personaggio che ci apre a questa nuova visione, che ci apre una consapevolezza maggiore, magari perché no capire chi sfrutta i sindacati perché li sfrutta e se Palpatine e gli ufficiali più alti in grado lo sanno e fanno finta di niente oppure sono all'oscuro di tutto. La nostra protagonista Kay viene mostrata come qualcuna che è entrata di recente in questo nuovo mondo perché il sindacato di Pike letteralmente la prende, la solleva, la butta di peso fuori dicendo sei troppo nuova e lei ha questo modo di ricerca della libertà, lei lo fa per essere libera in una galassia che come sappiamo tramite l'impero è sempre più oppressa, è sempre più prigioniera, soprattutto in questo periodo dopo che l'Uten in Andor ha fatto stringere la mano e in Atta hanno creato la nuova alleanza ribelle, i ribelli, c'è stato per l'appunto il primo scontro, la distruzione della morte nera, della prima morte nera e qui siamo nell'epilogo verso la battaglia di Jakku, siamo più vicini alla battaglia di Jakku quindi all'impero che è caduto rispetto a una nuova speranza. Tuttavia lei è piuttosto nuova e dice no io voglio la libertà, sì condivido, però il desiderio di libertà che ha questa ragazza è molto simile secondo me al desiderio di morte perché quello che fa che abbiamo visto in questo trailer sia in quello del gameplay per me è altamente rischioso, quindi ci arriviamo sopra perché giustamente vogliamo giocare a un personaggio che sia avventuroso, che sia tosto, che sia un po' questa versione di un solo, però non ho ben capito lei cosa intenda con libertà. Credo, qui è una mia lettura, poi spero che sia più interessante comunque a livello narrativo, che lei voglia mettere via qualche soldo, quindi guadagnare, arricchirsi con i cartelli criminali e poi essere libera nel senso bene io vado per la mia strada o addirittura ho pensato un'altra cosa, lei potrebbe essere in qualche modo prigioniera nel senso che ha un conto da pagare con qualcuno di importante, con qualche criminale molto importante, quindi in qualche modo è prigioniera nel senso che se non dovesse pagare questa somma in denaro loro la uccidono e l'unica cosa che posso trovare sono queste due soluzioni perché altrimenti mi viene la domanda, il quesito, ok, vuoi essere libera? Libera nel senso non sopporti l'impero, lo trovi troppo asfissiante, troppo prepotente, ok, aiuta i ribelli, aiuta la nuova alleanza, combatti con loro, quindi ci deve essere qualche desiderio recondito che è diverso, quindi o è prigioniera, quindi ha un debito con qualche cartello oppure vuole arricchirsi facilmente per avere una sua vita in libertà, qualcosa di più egoistico, qualcosa che non la farà avvicinare alla nuova maleanza ribelle. Bello inoltre che vediamo altri elementi più vicini, come dicevo prima, al ritorno dello Jedi, ovvero il palazzo di Jabba con le guardie gamorreane che cominciano a spingere la povera Kay verso quello che sappiamo essere l'apertura in cui cade giù c'è il rancor e poi vediamo degli scorci del Sarlacc, torna al deserto, torna Tatooine, che io ve l'ho sempre detto anche in Mandalorian, è secondo me un set, set chiamiamolo così, un'ambientazione molto abusata in Star Wars. È vero che effettivamente Episodio 4, i prequel con Anakin, con la figura di Luke in quella originale, comunque ruotano attorno a questo mondo. Bello citarlo, ma certe volte è un po' abusato. Qui però lo trovo contestualizzato, perché parliamo di Jabba Veat, parliamo dei cartelli criminali, e lui è lì. È difficile chiudere un occhio, è difficile non mostrarlo, soprattutto ad esempio parliamo anche di The Book of Boba Fett, in cui è vero non ci è piaciuto molto, però anche lì i cartelli criminali, quello di Boba, lui che vuole diventare il signore del crimine, è su Tatooine, la feccia è lì. Quindi se parliamo di un gioco di fuorilegge, ci aspettiamo di vedere questo mondo. Questo mondo che però non hanno un po' approfittato, ti mostrano Sarlacc, ti mostrano perché di sicuro secondo me Kai sarà portata lì a morire nella fossa di Carcun, ma ci mostrano anche alla fine, mi pare una sorta di Dragocrate, da quello che abbiamo visto, che è evidentemente una citazione, un easter ex, un omaggio a Dune, anche perché tra poco uscirà il videogame anche su Dune, quindi questo annunciato fuori legge, fine agosto, 30 agosto, quello di Dune, metti che piace quello di Dune, hai anche qui l'ambientazione desertica, quindi un po' un cavalcare sempre l'onda, è un'ottima secondo me strategia anche di marketing, perché ti piace Star Wars ma anche Dune? Ecco, ti mettiamo un pochettino di ciccia, anche perché Tatooine circola la spezia del sindacato di Pike, quindi la spezia in melange, citazione che Star Wars fa fin da episodio 4 a Dune e qui quindi ci ritroviamo su Tatooine, ci ritroviamo di nuovo su Arrakis in qualche modo. Per finire un po' di dubbi che ho avuto riguarda invece la gestione della comicità. Ci sono due o tre elementi che ho trovato un po' forzati, un po' vecchio stile, che potevano starci secondo me durante la teologia originale, qui è vero che siamo nello stesso periodo però è un format, è comunque un videogioco recente, quindi il fatto di lei che salga, di che, che voglia un'astronave, dice perfetta, tira giù i tastini, un po' la ritorno al futuro, altra citazione cinematografica di quel periodo, più o meno anni 80, poi dice tutto perfetto, il sedile che cade indietro o il fatto che lei da giabba abbia questo modo un po' diciamo quasi forzato nel fare delle citazioni meta cinematografiche, meta videoludiche in questo caso, al videogiocatore. Le ho trovate un pochettino, almeno nel trailer, troppe eccessive e quello che mi preoccupa non è il fatto che siano soltanto queste due, anzi queste due mi farebbero anche piacere, ma se già nel trailer sono più di una, io non vorrei che tutto il videogioco fosse, guarda qui, battutina, l'hai colta qui, qui citiamo questo film, citiamo Dune, ok, strizzata d'occhio, qui citiamo Ritorno al futuro, altra strizzata, qui citiamo la battuta invece del film, che lei però non può sapere che nel film dopo succederà questo, lo sai tu spettatore, quindi strizzata d'occhio, e su questo sono un po' titubante, perché io vorrei che alla fine il gioco si reggesse in piedi da solo e facesse magari ridere, perché ci sta secondo me un po' di umorismo, ma senza citarmi altro, senza strizzarmi l'occhio e farmi ridere, perché io so che poi in episodio 6 accadrà questo, o so che in un altro film è accaduto quest'altro, questo sapere però non è della protagonista, quindi risulta forzato narrativamente, è una questione comunque soggettiva, a me non piace particolarmente, per il resto i personaggi secondari, quelli che si sono visti, li trovo molto interessanti, effettivamente tutti quanti sono curioso di esplorare questo mondo e io non vedo l'ora che sia il 30 agosto, prima porteremo Jedi Survivor quest'estate, me lo restiamo in attesa di altri aggiornamenti e altri trailer, ma scrivimi qui sotto cosa ne pensi, ti è piaciuto, lo acquisterai, fammelo sapere, inoltre lascia un bel mi piace e come sempre, che la forza sia con voi! Grazie! Grazie! Grazie!